Amba Alagi, due volte sacra all'Italia. In alcune scene retrospettive rivediamo il Duca d'Aosta, su quel terreno stesso dove alcuni mesi più tardi i soldati d'Italia, ai suoi ordini diretti, compiranno prodigi di valore, prolungando oltre ogni limite una resistenza disperata. Il nemico, in omaggio al valore dei nostri soldati, ha loro concesso l'onore delle armi.